vai prima che arrivi con l'aspirapolvere prima che arrivi con l'aspirapolvere l'aspirapolvere è arrivata con l'aspirapolvere ecco butterò il microfono butta il microfono ecco l'unico che va nell'acqua dai orso tu dove sei scusa perchè la matta è tutta fissata allora l'aspirapolvere è che l'abbiamo fatta da mangià iniziata l'altra volta poi abbiamo deciso di non farla e quindi ciò ciò ahahah Batman si tuffa ma quanto pare ha desistito hai messo posto i volumi quindi tutto che bello esatto adesso sentite in Dolby Surround rau ah sei un loser? nooo non ho provato spazio cominciamo bene come al solito tre anni io porco ma porca io vi aspetto alla fine mi sa ahia fa un caduto comunque si effettivamente laggo a bomba veramente ah 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 conquista il muro di cinta mmm però questo stronzo di sotto mi sta guardando baffanculo vedi come avete fatto a farlo subito baffanculo vedi se la gente vuole pvp prossima sarà col pvp e ci picchieremo tantissimo bombe spacchiamo tutto e perchè ho così tante mele oh mi hai rubato la mela schifoso messicano no no non solo 36 allora guarda verso quello verde non lo so e guarda verso quello verde appena hai saltato guardi verso sinistra per saltare su questo appena parti aaaaa e qui la stessa cosa guardi quello verde appena ti giri guardi quell'altro e forse ce la fai aaaah 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 però sentito le ginocchia ti spiccavano le tue forse e mi sembra che anche tu sia ancora qui si ma c'è qualcosa per parca miseria stronk si chiama il tipo il villager che brutto se cado qua spacco tutto ma perchè l'acqua è chiaro DIO P**** guarda è caduto dai alla fine che vaffanculo per tua madre quella vacca i bottoni non spostano tutti perchè se spostassero tutti vuol dire che noi finiamo questo livello e anche ora si viene riportato al secondo bello non lo vedevo allora devi fare dal secondo e uno sopra poi guarda là e punto di là il fatto che non c'è neanche più sfida ormai perfetto guarda e uno c'è cado spacco tutto che è questo signore bruttissimo sono caduto sono caduto sono caduto e uno vediamo che mette la cavi sotto pressione oh ce l'ho fatta dai non si brincare oh neee eccolo una mela e adesso ecco adesso si fa così questo si fa così batman è la skin è la skin ti sei incominciata zio canta ancora cercando una skin sei più bello che questo dai nooo attività si ferma che permanenti chi? what dog l'ho trovata l'ho trovata l'ho trovata l'ho trovata attenzione segniamo la trasformazione cos'è esploso? ho picchiato clank ok come? l'hai messa? deve scaricarla vergogna ti puoi fare questi salti basilari però orso tu non ci provi perchè io ti vedo fermo in aria anche io ti vedevo fermo in aria una magata gigantesca pinghi uno biondo che schifo di connessione sorry bro si così metti la creative voli intanto con la scusa che laghi esatto il comando ci vede dopo un minuto vale orcatroia che cazzo di salto è successo? oh 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 my god oh baby che cazzo è successo? oh mi ha picchiato questo merburuto bastardo john ha fatto un salto della madonna è colpa mia oh mi ha picchiato clank che incazzato nero con me ma che cazzo è successo? cioè dopo vedi che cazzo di salto ha fatto? ma adesso che ci sei qui non basta vai avanti e guarda come mi guarda anche a te guarda male non so ma è nell'acqua non si 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 meno male come? ma non si arrugginisce? non lo so ma ha picchiato ma il biondo dove è sparito? ecco oh che cazzo di... che skin è? che skin head? che skin head? cazzo di batman che creava problemi adesso pinguite easy? il primo colpo ma sei tipo la mu? è tipo una merda la mu? è tipo lag merda guarda 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 e qua come bisogna farlo? affrontatelo voi prima ah easy biondo? si aspetta a dirlo left the gate cosa? perché sei leftato? mera che palle quindi non vuole giocare con noi il biondo e ho dei problemi mentali esatto eccomi ma la svetti? ma chi sei? coso? come si chiama il pokemon di brock? onyx di brocklin? no il pokemon di brock onyx no? onyx ma che cazzo c'entra? ma lui tutto pietroso oh yeti yeti? sono caduto eccolo taggo veramente un esoterro no sono caduto dietro ti ho visto cadere giù come uno stronzo il come si cade è molto importante vabbè una cazzata salta da solo vaffanculo quasi oh adesso c'è la connessione piena oh è ti è finito lo scaricamento di torrent e vai anger non sto scaricando nulla ma sei fin... sta facendo il bagno il golem porco due sta facendo? si lo ho delicala lo ho gentilmente spinto nella piscina eh mi ha rubiato vuol inzzarci di lui cosa sta succedendo sembra che stia esplodendo il mondo oh oh ti picchi a busso eh tra l'altro ti picchi a busso hai morto come uno stronzo Spero che rispondi al primo livello, al livello meno uno Sei morto? Sì Serio? Laga poco Hai cammetto skin di nuovo? Ma la smetti? Dove sei? È Gian quello Cos'è? No, non si sente, non si sente Ma è perché parli in beatbox oggi, vaffanculo, Dio Facciamo sto salto o no? Rispondi alla domanda Vai si, si è sprint o cazzo magari Pensa a quello che vuoi ma Mi sono riconnesso, mi sto riconnesso Madonna, eccolo Posso andare a livello successivo? Un attimo Pensa a quello Grazie per la visione!